Vogliamo delle lucidazioni perché siamo preoccupati in primis per la nostra salute, per la svalutazione degli immobili, per una serie di cose che appunto hanno fatto venire qui tutta questa gente. Dovrebbe nascere proprio qui, in questo piccolo appezzamento di terreno privato non arato, un nuovo traliccio della telefonia mobile. Sono preoccupati i residenti di Metauriglia di Fano, che appena saputo della possibile installazione dell'impianto in via Iozzino, hanno contattato l'ex consigliere comunale Pagnetti, che a sua volta ha coinvolto il consigliere Tinti del Partito Democratico, che nel giro di qualche giorno ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale per chiedere chiarimenti sull'iter autorizzativo e siti alternativi. Nella mappa delle localizzazioni allegata al regolamento comunale approvato il 20 marzo del 2024, non è contemplata nessuna ipotesi di installazione in quell'area, afferma Dimitri Tinti. Nei giorni scorsi, numerosi abitanti hanno anche contattato la nostra redazione per mettere in evidenza questo episodio e per chiedere delle delucidazioni dall'amministrazione comunale. Vorrei capire, essendoci un piano antenne che è stato firmato a marzo del 2024 e questo posto non c'era nel piano antenne, vorrei capire prima di tutto a che titolo hanno dato il permesso qua, che oltretutto è una zona fortemente abitata con diversi palazzi e quindi cosa vogliono avvelenarci tutti? Io spero di no e oltretutto vorrei capire chi ha firmato l'autorizzazione perché c'è una prassi e loro non l'hanno seguita visto che il piano antenne non prevede un'antenna metauriglia. Le preoccupazioni sono un po' generali perché abbiamo paura in primis per il nostro futuro e poi un po' di preoccupazione un po' anche per queste cose che fondamentalmente forse non conosciamo, per la salute, anche per il futuro dei nostri ragazzi. Inoltre alcuni abitanti ci hanno fatto notare che circa un chilometro a nord è già presente un impianto di un altro gestore, mentre a sud, a poco più di un chilometro, è presente un accorpamento di vari gestori. Siamo preoccupati anche in tal senso, come hanno ripetuto i miei vicini, insomma, la comunità, siamo preoccupati per la salute, perché non sappiamo se queste antenne poi saranno nocive oppure no e quindi vorremmo chiarimenti dalla nuova amministrazione. Speriamo che ci ricevano presto, abbiamo già fatto domanda perché il sindaco ci riceva. Questa è una zona in particolare di Metaurilia perché è una delle poche che è abitata, come vedi, da cittadini non estivi che sono qua tutto l'anno. Abbiamo tanti bambini per la via e siamo tutti un po' preoccupati per questa cosa qua, soprattutto perché ci sono tanti siti alternativi e trovarsi in antena a poche decine di metri da casa ci ha colto di sorpresa, un po' ci ha anche spaventato. Costruire una struttura così alta, così impattante, anche esteticamente, insomma, per noi che stiamo qui da anni e ci siamo affezionati, insomma, è stata una brutta sorpresa. Adesso speriamo che l'amministrazione comunale ci accolga e insieme si trovi una soluzione, perché poi in realtà le alternative ce ne sono tante.